Un saluto a tutti gli amici del Centrometro Italiano. Come è previsto, ecco arrivare sull'Italia è un'intensa fase di maltempo per l'arrivo di una perturbazione alimentata d'aria più fredda in quota di origine artica. Nelle prossime ore il maltempo interesserà un po' tutta la penisola, con precipitazioni più intense e abbondanti al nord e sulle regioni tirreniche. Neve abbondante sulle apie e sull'appennino centro-settenzionale a quota via via più basse. Neve copiosa oltre i 1000-1500 metri con accumuli localmente anche oltre i 50 cm. Tra la sera e la notte l'ingresso di aria più fredda sul Mediterraneo porterà i fiocchi fino a 500-600 metri sia sulle Alpi che sull'appennino. Nella giornata di domani, poi tempo instabile sulle regioni del centro Italia, con acquazioni sparse e neve localmente fin verso i 300-400 metri tra Toscana, Umbria e Lazio. Neve anche sulle Alpi orientali oltre i 400 metri e sull'appennino meridionale, in verso i 500-800 metri. Ancora incertezze sulla giornata di venerdì, quando un veloce imposto instabile in arrivo da nord-ovest potrebbe portare nuove piogge, specie al centro-sud, con neve fino a quote basse. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti per i dettagli sia sul nostro sito che sulla nostra app. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.